Musica 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 Oggi non riconoscete questo posto Lo so, lo so perchè non portiamo Un video della nostra vanilla ufficial Di minecraft da un sacco di tempo Quindi iscrivetevi al canale per questo ritorno Qualcuno mi ha detto che era finita Ma non è vero, non è vero Ecco qua annuncio frogettoso Qua Qua hai detto il tuo primo annuncio frogettoso Allora si era in descrizione Allora si era annuncio frogettoso Allora 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 No il mio cavallino Il mio cavallino serve un cucciaglio Allora Ti posso proporre uno scapio Ti posso proporre uno scapio I cucciagli Vuoi un libro da incantare? Si Che cosa mi puoi dare in cambio? No quello no Ti dà Un qualcosina di più interessante per favore Ma qualcuno ha i miei cucciagli Mi sto per tutto che non ti serve nulla No Ok vabbè Ma che non vi ricostate nella vecchia casa la mostra del copper? Io so il guinzaglio che ti posso regalare Voilà Batti cinque batti dieci questo nuovo è lei Quanti ce ne hai? Uno Ok Ma anche me l'hai preso? No Si ma chiesa il guinzaglio Oh zitto Ok No No c'è il pic Garibaldi che sta Ferito Sta facendo cose brutte Dammi il Dammi il Dammi il giardio Il pic Garibaldi ce ne sta andando via Il pic Garibaldi ce ne sta andando via mamma Il pic Garibaldi ce ne sta andando via mamma Il lama Il lama Il lama sta di qua Il lama sta di qua Il lama sta di qua Non ci provano C'è ancora il lama sta di qua Mi serve una cordicella Io non ce l'ho Vediamo se ce l'ho io Ha una cordicella di ragno io ho Ok No no mi serve il latte E io ho una cordicella di ragno se vuoi Massimo impossibile E noi ti posso dare Ragazzi io non la posso usare Non la posso usare Ragazzi io non la posso usare Non la posso usare Ok Qua ci sono dei lama Ok Qua posso trovare un guinzaglio Perchè c'è il commerciante con dei lama Mo ti porto il guinzaglio subito Non ti preoccupare Dove? C'è del commerciante con i lama Due guinzagli mo ti porto Dove? 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 Uno preso Ma perchè hai ammazzato i lama? Ah E ti dovevo dare i guinzagli Dove? Dovevi ammazzare lui e rubavamo i guinzagli Vabbè mi ammazzo pure lui Uno E due No no Volevo vedere cosa commercia Ah Non ho capito però eh 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 Io a me piace ammazzarle qua Ok Ecco a te i tuoi due guinzagli Prochetto Ti propongo uno scambio prochettoso Cosa mi daresti in cambio dai due guinzagli? Ti do l'armatura di diamante di Garibaldi Ok Tieni Due guinzagli No Dove stanno eh? Qua Ora Sanji di stare tranquillo Io ho un'altra armatura in fello nell'inventario per il cavallo Ok grazie Non te la do Ma come? Ora l'uccido ora l'uccido ora l'uccido ora l'uccido Ora l'uccido Boom Boom Uno Due Et voilà Et voilà Non mi ucci Dammi l'armatura No Ti riuscito di nuovo Dove sei? Dove sei? Annuncio prochettoso Ah ecco Dai va bene Faccio pace Faccio pace Faccio pace Ti ho detto Ma le vuoi proprio le totò eh? Allora le vuoi proprio le totò Allora le vuoi proprio le totò eh? Guarda che se moriamo in casa c'è nessuno Non te lo consiglio Non te lo consiglio Non te lo consiglio Non te lo consiglio Combatti bene duramente Ecco Ragazzi Cartuno ha un millino Si io Com Me lo dai un po' 25 cenotti Bastano? Ti starai pieno mamma mia Ok Se tu non la smetti C'è una letson a terra eh? C'è una letson a terra Io già te lo dico Non mi lancia un millino Sì E' una letson a terra Sì Sono dati? No A voglia Ecco qua Dai andiamo a fare qualcosa Cosa andiamo in mini air andiamo a fare qualcosa Io esco di casa C'è qualcuno che mi può tipare a casa se mi perdo brutalmente? Ok Chi? Allora Ma papà qui si resta qua a casa Ma perchè sempre io devo stare a casa scusate? Perchè te sei la domestica di casa Ma sei E poi ho i pochi materiali che te li porti Noi andiamo a cercare la vecchia casa Andiamo a cercare la vecchia casa Andiamo a cercare la vecchia casa Ah Qual tutta la mostra del copper Grandi risultati Dove sei Prochettoto? Sto 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 cercando una caverna Ok Prochettoto Ma papis Ma tu avevi le coordinate del block note Ok Te le ricordi? Eh Per mila anni fa Ma quel block note sarà già finito Eh sì Ma qua abbiamo un bel ponticello fatto da Amici Prochettoto Ok no? Per andare da quest'altra parte del villaggio Bellissimo Ancora non escono la pelle No l'ho fatto io Lasciate un like E iscrivetevi al canale per un altro episodio della nostra Big vanilla No big Magari può essere la ninja vanilla Non lo so Qualcosa del genere La van ninja Sì La ninja va La van ninja La ninja va Finchè il ninja va lascialo andare La ninja va io La fancincia Sì la fancincia Allora Mi dai 5.000? La fancincia Ciao ma che te ne devo dare Poi un'altra cosa Adesso mi devo andare a cercare una caverna Stavo lontanissimo da casa Oh io un fungo Io un fungo Ah la te Perché c'è andato nel bioma fungoso Pure tempo di funghi No No perché ora No no Ma c'è un po' Ho trovato un portale nene nel discuto Ho trovato un portale nene nel discuto Ragazzi Sono super sfortunato Sì Sono una squadra fortissimi Una squadra fortissima Una squadra fortissima Sono un piccolo infero Guarda Prendi il blocco d'oro Ok io prendo il blocco d'oro Prendo anche il mamma cube Tutta la netherrack Il mamma cube Il mamma cube Sto prendendo tutto Sanji Sarai fierissimo di me Di me Di me Di me Ok Il lutto della cesta Il lutto della cesta Qual è? Il lutto della cesta Allora il lutto della cesta C'è un'armatura che ti prendo in Uno Sì Due ossiglianini Delle pepite in ferro che non posso prendere Un'armatura di garibaldi In oro Armatura in oro garibaldiana Ok Ok Io ho trovato il grano Io ho trovato il grano e l'ho rubato Vieni Sanji Io c'ho tutto praticamente Prendo altri palmi Ma c'è un blama Non mi metto C'è un blama Non mi metto C'è un blama Non ti preoccupare Allora Ma dove vengola? Ah prendo pure un blocco d'oro C'è un blocco d'oro C'è un cavallo Prendo un blocco d'oro Ok E trasformalo No Ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma chi? Ce l'hai un'armatura in ferro? C'è un'armatura in ferro per... Da chi? Ci sono due Si ce l'ho ce l'ho Sanji ho preso due blocchi d'oro Ok Tieni Sanji Sei a terra Sanji Un attimo che... Un attimo che sto... Dando i nostri mani qua Ho preso due blocchi d'oro Allora dove è il cavallino nero? Ritippatemi a casa Ritippatemi a casa C'ho l'inventario pieno ragazzi C'ho l'inventario pieno Vi dico tutto quello là che ho trovato Ok? Ritippatemi a casa per favore Ok io... Abbiamo due cavallini ragazzi Abbiamo dovuto... Ma in maglia Ok Eccoli Ok Guardate... Guardate un pochino cosa ho trovato Allora... Deposito tutto in una cesta random Ho trovato Mattia non ti devi prendere assurdamente No... Esattamente guardate Allora... Se qualcuno si azzarda A prenderli si becca una congelata d'acqua 40 verruche Una bardatura d'oro Pepita di ferro Pepita d'oro Neraldo Stivale d'oro E poi abbiamo... Sì ma come non mi puoi dare a me L'armatura Ah no è vero L'armatura incendata me la prendo io Mattia Aspetta Io prendo questo Aspetta io prendo il ferro Attenti ti do la mia vecchia in ferro Mattia Ti do la mia vecchia in ferro Vabbè a te questa cane hai incendata L'ho trovata io L'ho trovata io Ok Ok ragazzi con quelle nove pepite di ferro ho fatto un lingotto in ferro Bravo Qua c'ho due blocchi d'oro No ma dammi Tom Ma c'è sciopo I piedini in ferro Me li vuoi dare? Ma quello è molto più debole di quello in ferro I piedini in ferro Ah è vero Me li vuoi dare? Mi dammi tutta l'armatura che io ti do questa concentrata a battere qui dentro Ok Anzi no questa concentrata me la lascio di qua E che nessuno si aggierga a prendere a sessere mio permesso Vabbè certo a me nessuna armatura Bravo Ok Vediamo un incontrino di ferro Perché è come fa Dal terzo получится Ah sì Il terzo episodio della nostra valora Lui è sempre i richiedoni Ok Ora i tutti iросcetti Poi c'ho due di ossidiane Ok io voglio cercare casa Eh notte Due di ossidiana ok guardate tutto il mio quello che ho trovato ok dove sei non siete noi siamo ok abbiamo trovato un portale del nether attia vieni a dormire ti prego te lo giuro ti prego te lo giuro vieni a dormire vieni a dormire fammi un attimo non l'ho ucciso io non ti ho ucciso io Sanji oh Sanji per cosicchiarmi come hai usato come hai usato dai andiamo a letto via mi sono permesso pure Sanji ok va benissimo ho dormito quindi io ho preso la mia redstone ragazzi spero che questo vi sia piaciuto io ho 15 di redstone ok io ho 15 di redstone vabbè ragazzi spero che questo vi sia piaciuto inscrivamo al prossimo video ciao